Andiamo, andiamo. Allora, mi raccomando in teatro e poi vi aspetto cabina di pilotaggio. Va bene. Chiedo scusa, com'andato? Sì. Fra un paio di ore arriviamo al porto di Bari. È regolare. Le volevo chiedere il permesso di sbarcare. Sbarcare? Stiamo scherzando, stiamo scherzando. Tanti passeggeri, chiede io ho bisogno dell'ufficiale, non è possibile assolutamente. Com'andato? Il motivo, cioè non c'è un motivo, perché deve sbarcare a Bari? E vorrei partecipare al funerale di mia suocere. Pure io? Pure io vorrei partecipare a un'arriata. Ti invidio? Non lo so. Com'andato? Un po' di patria. Il primo poi capiterà anche a te. Sei un uomo fortunato, non so.